La Presidente porta la responsabilità del Governo regionale, questa volta è un'aggiunta anche molto ristretta, solo cinque membri, quindi grande collegialità. Ho voluto scegliere anche persone che hanno esperienze amministrative, istituzionali, di governo, perché credo che noi dobbiamo essere all'altezza anche di un'azione pragmatica. L'Umbria ha bisogno di tornare ad essere una regione veloce nella competitività, nel ritornare a creare lavoro, nella possibilità di modernizzazione e sappiamo che il Governo regionale può aiutare moltissimo a rendere più veloce questo percorso e quindi l'esperienza, la competenza, la capacità di dialogo con la società regionale, che hanno tutti e cinque i membri da me individuati nell'aggiunta, credo che ci aiuterà a partire velocemente e a fare anche molto bene negli interessi dell'Umbria. Un concetto, la priorità assoluta? La priorità assoluta si chiama tornare a fare di questa terra una terra che ha una propensione all'innovazione, all'apertura e alla creazione di lavoro. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di imprese forti e robuste, ce ne sono molte, ce ne sono molte che lo vogliono essere e noi come Regione aiuteremo queste imprese e questo nostro territorio regionale a creare le condizioni della modernizzazione del lavoro in Umbria.